Bene ragazzi, incredibile vero, ma sono proprio io, sono Gerardo in carne e ossa, un po' cambiato nell'aspetto, con gli occhiali e la barbetta è un po' ingrassato, ma sono proprio io, sono tornato a fare video e sono tornato soprattutto per farmi perdonare per la mia lunga assenza, assenza che comunque era dovuto al fatto che il tempo a disposizione è sempre quello che è, è sempre poco, ma soprattutto avevo un po' perso l'energia mentale per fare i video. Adesso in questo sfortunatissimo periodo che c'è il coronavirus mi sono molto riposato, ho recuperato un po' di energie e penso di poter fare altri video da qua in futuro, almeno un video a settimana, ecco così quello che mi prometto di avere un po' di costanza nel fare i futuri video. Comunque ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, Excel Magico numero 148, oggi parliamo di un contenuto molto importante che mi avete chiesto qua in basso nei commenti di YouTube, cioè come esportare una tabella che è presente all'interno di un file PDF e metterlo all'interno di Excel. Sarebbe molto facile farlo con il corpo in colla, ma purtroppo come poi vi farò vedere è impossibile. Ecco, prima di farvi vedere come si fa, dovete sapere una cosa molto importante che nel web trovate tantissimi convertitori di PDF in Excel, ma sono tutti diciamo a pagamento. Ecco, quello che vi farò vedere io ovviamente è gratuito, ci sono due passaggi, praticamente andiamo a trasportare quello che è il contenuto di PDF all'interno di Word, ovviamente è una coppia fedelissima e poi vediamo come da Word la mettiamo dentro Excel, perché Word e Excel comunica molto bene, così che comunica molto bene Word con PDF. Comunque questo è l'escamotage, vi faccio vedere come si fa. Come prima cosa andiamo a cercarci un bel file PDF, io apro il mio browser, ecco qua prima avevo trovato un sito scommesse calcio PDF, vediamo cosa viene fuori, ecco qua questo qui, andiamo in classifiche calcio, eccoci qua, e questo qua è una tabella PDF, dobbiamo esportarla all'interno di Excel. Come prima cosa ovviamente vi consiglio di andarla a scaricare qui dal browser, scarica, ecco mi viene fuori il pop up del salva con nome, andiamo a scegliere il percorso, chi lo mette in download, documenti, mettiamolo qua in desktop, facciamo un salva, possiamo chiudere il browser che ormai l'ha scaricato, andiamo qua, ecco qua vedete abbiamo il nostro bel file PDF, ok? Ecco verrebbe spontaneo selezionare la parte che ci interessa, come in questo caso qua ci interessa questa tabella qua, ecco qua magari selezioniamo un po' meglio, se riesco, ecco qua non è mai tanto semplice selezionare il tutto, ecco qua vedete? Ecco verrebbe spontaneo fare un CTRL-C per copiare, aprire Excel e fare un CTRL-V per incollare, oppure potremmo fare il mouse destro, incolla, ecco vedete come me lo incolla? Per fare tutto questo, come ho detto prima, c'è le scamotage di Word, ecco qua, chiudiamo non salvare, cosa facciamo? Chiudiamo anche questo file qua, che non ci interessa per il momento, andiamo a aprire Word, ok? Andiamo a aprire un nuovo documento, file, apri e andiamo a scegliere il nostro percorso e la sfoglia, andiamo in desktop, eccolo qua, il nostro file PDF e lo apriamo. Ecco notate che il mouse è diventato una classifica perché ci vuole un po' di tempo, infatti notate qua in basso nella barra di caricamento ci vuole un po' di tempo, ecco il tempo dipende da quanto è grande il file PDF, normalmente ci vuole minimo un minuto, ecco io per fare veloce ovviamente adesso interrompo e vado alla fine. Ecco ragazzi, questa qui è la copia fedelissima di quel file PDF che avevamo prima, ma adesso siamo in Word, ok? Infatti se faccio CTRL F1, vedete questa qua è la barra di Word, qua è tutto grigiasto perché questa qua è una visualizzazione protetta. A questo punto andiamo a cliccare abilità modifiche, ecco sta caricando, vedete qua la progressione, siamo al 5%, eccoci qua, siamo all'interno di Word, eccoci qua, adesso selezioniamo la tabella che ci serve, anzi magari guardiamo un pochettino in modo tale che si vede meglio, eccoci qua, selezioniamo questa tabella, possiamo cliccare qua sopra la tabella oppure possiamo selezionarla, come vogliamo noi, ecco qua CTRL C e noterete che quando poi vado in Excel, facendo un CTRL V per incollare, vedete che l'ha copiata benissimo, però ovviamente diamogli un po' di formattazione, ingrandiamo un pochino il font, facciamo questo qua un po' più largo, ma gli altri un po' più stretti, poi possiamo dare tutti i fonti che vogliamo, i colori che vogliamo, possiamo modificarlo un po' come ci pare, ok? Qua ad esempio possiamo, qua possiamo dare un colore all'intestazione di colonne, possiamo dare un colore all'intestazione di riga, giusto per darle un po' di formattazione, e poi possiamo giocare un po' come vogliamo, ok ragazzi? Spero che questo video qua vi sia utile e spero di vedereci al più presto con un nuovo video. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, alla prossima, ciao!